Altri due gruppi che sono di grande interesse, per quanto riguarda la dieta, sono i cosiddetti uomini delle caverne e, naturalmente, gli antichi greci e spartani. Uomo delle caverne. Ultimamente c'è stata una certa tendenza per le diete basate sugli alimenti, che l'uomo delle caverne avrebbe mangiato. È una buona idea. Se l'uomo delle caverne ha potuto mantenere una grande salute, e forza per migliaia di anni, allora ha senso copiare la sua dieta. Ma devi capire cosa molto probabilmente hanno mangiato, e molti autori hanno sbagliato di grosso. Molti pensano che l'uomo delle caverne mangiasse solo carne molto magra, con pochi grassi saturi nella sua dieta. Ma se guardiamo ai registri dei moderni cacciatori, raccoglitori africani, che ora vivono vite simili, ed esaminiamo le prove archeologiche dei siti degli uomini delle caverne, la storia è molto diversa. Ad esempio, gli uomini delle caverne del Nord America mangiavano mammut, bradipo, cammello, bisonte, castoro, antilope, alce, cervo, orso, cinghiale, pecora e capra di montagna per citarne solo alcuni. La maggior parte di questi animali è considerata ricca di grassi. Hanno grandi depositi di grasso. E quegli animali che non avevano molto grasso venivano cacciati solo in certi periodi dell'anno. Come la fine dell'estate, quando i loro depositi di grasso erano al massimo. Gli aborigeni australiani dell'età della pietra non si prenderebbero la briga di riportare al campo un canguro troppo magro. Gli uomini delle caverne nordamericani non darebbero la caccia al bisonte femmina in primavera perché gli animali gravidi bruciano tutto il loro grasso immagazzinato in inverno. Alcune carni di organi sono state mangiate crude nel luogo dell'uccisione. E se fossero qualcosa di simile ai più moderni cacciatori, raccoglitori, le sezioni più pregiate dell'animale erano le parti più grasse. Il cervello, la lingua, i piedi e le ossa lunghe piene di midollo. In molti siti le ossa lunghe sono state riportate alla famiglia, ma il resto del corpo è stato lasciato. Alcuni ricercatori ritengono che sia stato il desiderio di questi animali più grassi a portare alla caccia dispendiosa e all'estinzione di alcune specie come il mammut, il rinoceronte lanoso e i bradipi. E i grassi saturi? Antilopi, caribù e pecore di montagna sono saturi per oltre il 50%. La bufala è satura oltre il 56%. Il grasso di cammello è ancora più alto al 63%. Stai vedendo uno schema? I grassi animali hanno mantenuto gli esseri umani sani e attivi per molto tempo. Perché ora sono considerati malvagi? Antichi Greci I greci erano una civiltà molto più avanzata rispetto ai popoli tribali che abbiamo già visto. Erano nel contadino o nel gruppo agricolo. Ciò significa che coltivavano cereali e allevavano animali. Ma erano ancora molto sani e mangiavano una dieta di alta qualità. I cereali venivano trasformati in pane. Questi antichi pani erano lontani dalla spazzatura che oggi chiamiamo pane. Erano fatti con cereali integrali macinati a pietra e fermentati o inaciditi. Torte, pani dolci fatti con miele o frutta venivano gustati come dessert. Il formaggio era un alimento molto importante e uno dei componenti fondamentali della dieta greca. Probabilmente sono stati mangiati diversi chili a settimana fornendo molte importanti vitamine liposolubili. Gran parte di questo formaggio era prodotto con latte di capra poiché le capre erano una parte importante della vita greca. Molte volte leggerai di capre sacrificate a diverse divinità nella storia greca. Venivano usati anche la loro carne e il loro latte. Altre fonti di carne erano maiali, conigli, uccelli e agnello. Le uova erano molto apprezzate e utilizzate molto nella loro cucina. Le olive e l'olio d'oliva erano ampiamente utilizzati insieme ad altri frutti e molte verdure fresche tra cui pomodori, carciofi, fichi e melanzane. Il miele grezzo era usato non solo come alimento, ma anche per curare ferite e infezioni. Per tutte le persone che vivono vicino all'oceano, i frutti di mare costituivano una parte importante della loro dieta. Si usavano pesce, crostacei, polpi, calamari, ricci di mare e seppie. Per bere i greci erano molto appassionati di vino. Il loro vino non era pastorizzato, quindi forniva molti enzimi utili. Ma raramente lo bevevano senza prima diluirlo con acqua. Versione spartana Gli spartani non mangiavano nelle loro case individuali. Sono stati divisi in piccoli gruppi di circa 15 persone e hanno mangiato insieme in baracca. Ogni spartano doveva fornire una determinata quantità di cibo ogni mese da condividere con i suoi compagni guerrieri. Ciò includeva farina d'orzo, vino, formaggio, fichi, frutta fresca e denaro per acquistare pesce e carne. Anche la carne cacciata veniva portata per essere condivisa. Ma il loro pasto preferito e il più famoso era il brodo nero. Una zuppa densa molto nutriente composta da verdure, carne, brodo di ossa. Gli spartani rifiutarono tutti i fantasiosi pani dolci al miele di cui godeva il resto della Grecia. Mangiavano solo i pasti più basilari. Credevano anche nell'essere magri. Non mangiavano troppo e non permettevano ai giovani di mangiare troppo e ingrassare. Volevano guerrieri magri, in forma e forti. Il segreto della dieta del regime di salute spartano Oggi la maggior parte degli esperti è ossessionata dalle calorie e suddivide il cibo in soli carboidrati, grassi e proteine. Credono che un carboidrato sia un carboidrato, un grasso sia un grasso, e soprattutto sia cattivo, e una proteina sia una proteina. Beh, sono tutte stronzate. La qualità conta. Non tutti i carboidrati sono uguali, sicuramente non tutti i grassi sono uguali e non tutte le proteine sono uguali. Anche le diete primitive erano molto più ricche di nutrienti rispetto alle diete che mangiamo oggi. La dieta della salute spartana è una dieta ricca di vitamine e densità minerale, comprese tutte le importanti vitamine liposolubili. Crede nella qualità del cibo. Segue le leggi che la natura ha fornito e tiene conto della saggezza di migliaia di generazioni dei nostri antenati. Funziona. Continua nel prossimo episodio solo su Antica Nutrizione.